Anche per i personaggi amministrativi io immagino che si debbano fare degli sforzi importanti per orientare il lavoro dell'università in maniera armonica verso degli obiettivi condivisi. Immagino un sistema di welfare aziendale che ha iniziato a svilupparsi qui da noi potrebbe essere molto potenziato, potremmo amplificare le risorse che noi abbiamo, moltiplicare le risorse che abbiamo e offrire una serie di servizi dall'asilo aziendale alla sicurezza anche per interventi, problemi che possono esserci in famiglia, le assicurazioni sanitarie, tutti elementi che fanno sentire il dipendente parte di una comunità che ha cura, che è attenta rispetto alle esigenze del dipendente, che deve sentirsi parte di una comunità, deve avere piacere di venire a lavorare in questa istituzione perché l'istituzione rispetta il lavoro del dipendente.